Siamo qui sempre dal festival della creatività La Fortezza da Basso e qui con noi Cinzia T.H. Torrini. La creatività per lei che cos'è? La creatività detta così è una parola grossissima, comunque per me parte dalla passione, dalla sensibilità, dalla intuizione. E' un connubio di queste tre cose insieme e essere creativi secondo me è qualcosa che ti libera da essere anche, a me mi porta via dalla depressione, per esempio. Poter essere creativa mi dà questo ottimismo nella vita. E' una dote che hanno tutti oppure secondo lei ce l'hanno solo alcuni, va coltivata? Quando lei ha scoperto questo fuoco? Penso di averlo sempre avuto dentro, poi si può essere espresso in tanti modi diversi. E mi ricordo che mia madre una volta mi disse fai in modo che questa tua passione, io a quei tempi amavo la fotografia, non diventi il tuo lavoro perché altrimenti sarai una schiava. Io invece ho seguito questo, giustamente, e essere schiava infatti vuol dire che non c'è mai tregua e quindi anche quando torno a casa comunque la mia testa lavora, pensa, non è che io chiudo il negozio e stacco, non è questo il fare un lavoro creativo, ce l'hai sempre dentro, però ti dà tantissimo, ti ritorna indietro tantissimo. Grazie a tutti.